Il finale di nuove assunzioni per il Comune di Verona, questo ci permette da un lato di aumentare la sicurezza anche nella città perché una buona parte di queste assunzioni riguarderanno la polizia municipale, sia con personale a tempo indeterminato sia con personale a tempo determinato e sono previste anche assunzioni che riguarderanno gli ufficiali di polizia municipale. E poi il tema delle scuole, negli anni passati si è sempre partiti con l'affanno perché mancavano gli insegnanti, quest'anno riusciamo a partire con tutto l'organico, personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato in modo che l'anno automatico inizi senza particolari problemi. Le altre assunzioni riguarderanno un po' tutti i settori del Comune, ci sono necessità, difficoltà che erano sorte anche perché in passato c'era stato un blocco delle assunzioni, anche recentemente da parte del Governo si è superato questo blocco e adesso si può procedere con le assunzioni e quindi andremo a mettere nuovo personale un po' in tutti i settori. Arriveranno anche dei nuovi dirigenti che potranno sostituire i dirigenti che sono andati in pensione nei mesi scorsi e proseguiremo con questo trend di assunzioni anche nel 2024 e nel 2025.